Ciao ragazzi, un saluto da Zebra Bianconera Allora Due punti persi ragazzi, due punti persi, punti persi ancora Non impareremo mai ragazzi, specialmente in queste partite Non impareremo mai Non impareremo mai a chiudere partite Mamma mia, io non ho parole, non ho parole oggi, non ho parole Parole, cioè ragazzi, vincevamo 1-0 con il gol di Ronaldo nel primo tempo Poi avevo avuto anche la sfiga oggi, eh Col paro di Ronaldo nel primo tempo ancora, che potevano fare 2-0 subito E poi anche nel secondo tempo abbiamo avuto una marea, le occasioni E niente, niente, il parone non entra dentro, il parone non entra dentro La partita non la chiudiamo In alla fine, purtroppo, abbiamo pareggiato all'ultimo istante con Cresedo Ed è un pareggio che brucia E sono due punti persi che bruciano ragazzi Bruciane come Adesso parliamo delle zebra pagelle della nostra Juventus Cresni, 5 e mezzo Demiral, 6 Bonucci, 6 Danilo, 6 e mezzo Quadrado, 7 e mezzo Rabiot, 6 e mezzo Bentancur, 6 e mezzo Frabotta, 6 e mezzo Kuzeschi, 6 e mezzo Morata, 6 e mezzo Ronaldo, 6 e mezzo Cambi, Di Bara, 5 e mezzo Mekinni, 6 Benaldeschi, 5 Bene ragazzi, con questo è tutto Vi dà una buona giornata Iscrivetevi al canale YouTube E seguitemi anche su Instagram Sul zebra Da dico basso, bianconera Fino alla fine, forza Juventus Buona giornata a tutti ragazzi Ciao